Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su American Coffee con questo nuovo taglio di capelle. Ragazzi, ebbene sì, finalmente dopo un paio d'anni che continuavo, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, è arrivato il momento in cui ho deciso di farlo e mi sono rasata la testa e ne sono veramente molto contenta. Immagino che ci saranno delle nuove persone che arrivino su questo video, quindi se non seguite American Coffee dovete sapere che ho vissuto in 6 nazioni negli ultimi anni e correntemente vivo a Tokyo in Giappone, mi sono trasferita qui circa 6 mesi fa per studiare giapponese, quindi ho viaggiato molto per il mondo, ho viaggiato più di 30 nazioni, ho vissuto in 6 come vi ho già detto e quindi sì, ho fatto tante esperienze per il mondo ragazzi e finalmente ho fatto anche questa esperienza qui dove mi sono rasata i capelli e sono stufa di vedere video dove tutti fanno Che problema c'è nel rasarsi i capelli? Che problema c'è? Non c'è nessun problema. Questa è un'esperienza che tutti dovrebbero fare, ok? Tutte le donne dovrebbero provare a rasarsi i propri capelli ragazzi. Non ce n'è, ok? Non c'è niente di cui avere paura, non esiste, è una cosa che abbiamo in testa che veramente perché abbiamo paura di avere i capelli corti? Non c'è motivo. E questo è il mio ultimo video con i capelli lunghi ragazzi. Ragazzi, ho fatto un lavoro disastroso, i lati sono usciti malissimo, ok? Il dietro fa schifo, ma sono contenta di averlo fatto. Come mai ho deciso di rasarmi i capelli? Beh, vivendo in Giappone ho avuto i capelli colorati per tanti tanti anni ma devo sempre fare questa cosa che devo cambiare il mio colore dei capelli perché devo lavorare e quindi non è accettabile avere una persona con i capelli verdi non è accettabile avere una persona con i capelli blu che lavori al supermercato, che lavori di qua e di là. Quando ho iniziato a lavorare, ho 33 anni, assolutamente non potevo trovare un lavoro avendo i capelli anche solo un po' arancioni particolari, ok? Quindi ho sempre dovuto fare questa cosa di dover smettere di colorarmi i capelli con colori particolari per avere lavoro. Sono arrivata in Giappone nuovamente, anche in Australia non potevo farlo perché il mio boss non mi avrebbe licenziato, però non era veramente a favore e costava un po' troppo e non avevo i soldi in quel momento quindi ho cambiato un po' il colore dei capelli ma non ho fatto nessun colore troppo particolare. So, quindi sono veramente molto molto stufa di tutte queste continue cambiamenti sono arrivata in Giappone e logicamente avevo i capelli verdi ho fatto l'interview e mi ha detto ti assumiamo, però dovresti cambiare il colore dei capelli e questo sapevo già che sarebbe successo soprattutto perché io in questo momento insegno inglese in un asilo e decisamente è una cosa che non potrebbe mai succedere avere un insegnante con i capelli verdi in un asilo penso anche in Italia, in Giappone, in tantissime parti del mondo è ancora molto molto difficile ed è un grande tabù quindi ho dovuto cambiare il colore dei capelli c'è un video a riguardo, quindi andate sotto e guardatelo se non l'avete visto all'inizio è stato un buon cambiamento, gli ho tinti neri è stato abbastanza interessante, ma dopo 5 mesi mi ero rotta le balle ok? non riesco ad avere i capelli marroni non è nella mia personalità e in più sono un paio di anni che i miei capelli mi davano fastidio continuavano a darmi fastidio io ho tantissimi capelli e fanno questa cosa ragazzi che sono tipo un casco pesantissimo non sono belli, non sono morbidi logicamente con tanti anni di tinte e a volte li decoloro, quindi si rovinano molto quindi li prendo, li taglio molto corti ho fatto questa cosa per tanto tempo e nell'ultimo paio di anni pensavo, non mi sono mai rasata voglio provare a rasarmi questo è stato like voglio proprio provare questa nuova esperienza ho 30 anni e non vedo nulla di male nel fatto che una donna abbia i capelli rasati ok? ragazzi è una convinzione sociale che mi sta proprio sulle B tantissimo, da tantissimi anni è una convinzione sociale che non ha nessuna ragione di esistere vorrei più portarvi in particolare come è stata la mia esperienza di appunto rasare prima di farlo ho guardato qualche video e sembrava abbastanza semplice ma la verità è stato che è stato molto 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 difficile io tra l'altro porto gli occhiali quindi quando io mi raso e tolgo gli occhiali non vedo mi manca 1,50 ma nello specchio non vedo abbastanza bene non vedo bene abbastanza per poter fare un buon lavoro difatti ragazzi se guardate qui a lato qui a lato e vi faccio vedere dietro dietro era ancora più difficile perché ho dovuto fare delle foto guardare le foto e poi cercare di sistemarlo ragazzi quindi è stato difficilissimo non è stato per niente facile come fanno vedere alcuni video che gli esce magnifico ok? vi faccio vedere il dietro il dietro è stato estremamente difficile con le foto e dovete appunto cercare di fare questo shade ed è stato praticamente impossibile ok? perché dal secondo specchio comunque senza occhiali non vedevo non posso mettere gli occhiali perché appunto devo sistemare questa parte qua dove arrivano appunto gli occhiali e anche questa parte qua dove arrivano gli occhiali quindi era un po' like proviamo proviamo e poi lo vedi veramente troppo troppo tardi quindi tutto sommato non è uscito per niente bene ragazzi questo ma ne sono contentissima sono contentissima di aver fatto questa esperienza da sola di non essere andata da qualcuno perché l'ho trovata veramente molto molto divertente ero al telefono col mio partner mentre lo facevo quindi abbiamo parlato mi sono divertita tantissimo ed è un'esperienza che vi raccomando di fare da soli all'inizio volevo farli più lunghi avevo provato all'inizio un 5 e poi successivamente pian piano sono scesa volevo andare volevo non volevo farli così corti ma ho realizzato che non ce n'era ragazzi da sola di fare un lavoro decente su un 5 era molto molto più difficile ho preso il 3 e il 3 è stato molto molto più semplice sono riuscita a uniformarli perché col 5 non riuscivo c'erano delle parti che mi rimanevano molto molto lunghe e quindi è diventato molto corto e tutto in un secondo ho detto basta non ce la faccio non escono bene facciamoli più corti possibili ed è stato la modo più facile e anche così come vi ho fatto vedere ragazzi non sono usciti bene per niente una delle cose molto interessanti che vi devo dire che non mi aspettavo avevo la frangetta e il segno di dove avevo la frangetta come vedete è rimasto completamente una cosa molto molto interessante che non mi aspettavo questi sono stati un po' di anni di frangetta che hanno fatto questo effetto credo che una volta che i capelli ricresceranno sarà un po' diverso si amalgameranno ma ho ancora il segno proprio di dove avevo la frangetta molto molto interessante e ho il segno di dove dipartivo i capelli sono stati dipartiti departi ok penso che si dica così in italiano sono stati divisi proprio per tanti anni nello stesso posto quindi si vede appunto con il mio taglio rasato molto molto interessante una cosa che non mi aspettavo appunto che potesse succedere uno dei pro è il quando ho fatto questa esperienza ho iniziato a tagliarli devo dire che è stato un mix ok perché logicamente mi sono sentita veramente empowered mi sono sentita veramente molto molto forte mi sono sentita completamente potente mi sono sentita potente forte mi sono sentita proprio come donna se prendessi in mano la mia vita ho pensato va a quel paese la società faccio quello che voglio e avete questa sensazione veramente di andare contro la società che è fortissima e nello stesso tempo pensavo questa sensazione che sto provando è veramente stupida perché non dovrei provarla perché non ci dovrebbe essere niente di strano in una donna di avere i capelli corti o di avere i capelli rasati quindi avete queste due sensazioni che dici ah sì e poi pensi questo è così stupido stupido perché mi ci sono voluti tanti anni perché ci sono ancora persone che hanno paura perché questa cosa è ancora un problema nella società delle donne di avere i capelli corti quindi ci sono queste due sensazioni che si mischiano ed è stato veramente molto 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 interessante all'inizio ho avuto questa sensazione di wow l'ho fatto finalmente l'ho provato la prima volta vi sentite proprio di andare contro a millenni di società che vi dicono che non potete farlo perché siete donne e quindi questa cosa e poi successivamente dopo che ho finito di fare il mio haircut mi sono lavata all'inizio non l'ho apprezzato quanto lo sto apprezzando adesso proprio il primo giorno che l'ho fatto ho iniziato a avere l'ansia perché poi pensavo cosa succede se a lavoro mi licenziano è una cosa stupida e adesso penso è così stupido è veramente veramente una cosa stupida ma se pensiamo a come si comporta la società in qualsiasi parte del mondo con le donne che si rasano o hanno i capelli corti vi viene ansia e mi è venuta l'ansia anche a me anche se so che non è una cosa giusta a me mi è venuta l'ansia il giorno dopo invece sono andata a scuola tutti sono rimasti scioccati è stato bellissimo perché nessuno lo sapeva che l'avrei fatto quindi è stato bellissimo vedere le reazioni delle persone punto altro punto positivo di queste sensazioni particolari del sentirsi appunto forte indipendente è comodissimo mi sono liberata del problema sapete quando avete quel momento dove la sera si sentite i capelli sporchi ma siete stanche non volete lavarvi i capelli prende troppo tempo e questa è una cosa è un'ansia ed è un problema che molte donne hanno soprattutto quando avete i capelli lunghi vi sentite che i capelli sono sporchissimi non volete andare in giro con i capelli sporchi ma allo stesso tempo magari siete troppo stanche e non volete lavare i capelli perché ci mettete troppo tempo a lavarli ed asciugarli la prima sera ok la seconda sera ero lì ero veramente molto molto sanca lavoro tante ore quindi io lascio casa alle 8 ritorno dopo le 8 lascio casa prima delle 8 ritorno dopo le 8 di sera ed ero lì ho pensato non devo più preoccuparmi di lavarmi i capelli ragazzi ci ho messo 10 minuti a farmi la mia doccia ho lavate i miei capelli ed ero già nel letto dopo 10 minuti è stato magnifico quindi questo è uno veramente dei lati positivi dell'avere i capelli così corti soprattutto adesso che è estate fa molto caldo forse d'inverno penso faccio troppo freddo questo è il mio cappello preferito di solito quando lo mettevo sembrava sempre un po' stretto e invece guardate è grandissimo è stato tipo l'ho messo su e proprio l'ho provato l'altro giorno ed è grande adesso ho pensato wow seconda cosa veramente molto molto positiva mi piaccio molto molto di più non mi sono mai piaciuta con i capelli più di tanto mi piacciono i capelli ma ho trovato che con i miei capelli non stessero mai troppo bene e invece guardate qua pam adoro questo cappello con il taglio corto secondo me sta benissimo e mi piace un sacco averlo addosso vi farò dei video dove farò degli aggiornamenti decisamente su cosa succederà sul mio taglio rasato e come andrà e come mi troverò in futuro ma per adesso come vi ho detto il primo giorno non mi piaceva per niente e adesso invece lo sto adorando e sono veramente molto 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 contenta di aver fatto questa esperienza ragazzi e sono contenta di come mi sento e di come appunto è il risultato ecco anche se non è stato un buon risultato perché non è un buon taglio ma mi sento veramente molto molto realizzata ed è stato molto molto importante fare questa esperienza e la consiglio veramente a tutte le donne quindi niente ragazzi continuate a seguire American Coffee Travel ci vediamo alla prossima da Tokyo caffè e cappuccini ciao ciao